Cosa significa per voi questo posto, per retastare nel cuore dell'Aquila, Centro Storico, la sede prestigiosa? Ha molti significati, un significato è interno all'Agenzia, cioè il nostro programma di ricollocazione in immobili in sinergia con le linee del demanio ma soprattutto in sinergia con il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e nel caso specifico, quindi al di fuori dell'Agenzia, siamo di fronte a un investimento chiaro su un territorio che meritava questo, meritava l'impegno del pubblico, l'impegno di un'agenzia governativa come la nostra per riportare l'Aquila al centro di attività, di servizi e al centro di un programma che certamente continuerà a svilupparsi da parte nostra nel futuro. Il laboratorio, la novità qua, in che cosa consisterà e cosa si farà in questo laboratorio? Esattamente quello che stavo dicendo, cioè il programma si continuerà, continuerà attraverso la creazione di un laboratorio che avrà sicuramente tutti gli skill professionali del laboratorio dell'Agenzia che chiaramente è funzionale le nostre attività, quindi si occupa sì di verificare stupefacenti o verificare tutto ciò che riguardano i carburanti, quindi fare analisi che riguardano il contesto tributario e extratributario ma soprattutto garantirà alle aziende anche la possibilità di rivolgersi al laboratorio per avere certificazioni che riguardano le merci che vengono lavorate e la loro qualificazione che è lo scambio.